Durante l'incontro ha scrittori in città, ha parlato della percezione che gli italiani hanno dell'Europa e dell'Unione Europea. Invece, secondo lei, come si sta comportando questo governo nei confronti dell'Unione Europea? Insomma, la tentazione di tutti i governi è di cercare di confrontarsi o cercare lo scontro. Secondo me, si è forte in Europa se si lavora insieme, se si discute, se si dà un tavolo e insieme agli altri paesi ci cerca di risolvere i problemi nostri, ma anche quelli degli altri. Tutti i paesi hanno dei problemi, la capacità degli altri di aiutarci dipende anche dalla nostra capacità di aiutarci. Dunque, siamo in un sistema cooperativo, complicato, però che credo che in questi ultimi anni, in questi ultimi 60 anni da quando l'Europa è cresciuta, sicuramente ha creato l'area di prosperità più importante nel mondo. Credo che alla fine bisogna trovare una soluzione a tutti i conflitti, anche perché in gioco c'è il risparmio degli italiani e c'è la prosperità dell'Italia e andare contro gli altri, quello che non sia mai portatore di soluzioni molto utili e che danno una prospettiva di crescita in futuro. La situazione di questi giorni la vediamo, c'è uno spread che è aumentato, che riflette la paura o l'incertezza in chi compra titoli di Stato italiano o altri titoli italiani. Ed è importante ridurre questa incertezza, ridurre questo spread per mettere gli operatori italiani, le imprese, ma anche lo Stato e le banche sullo stesso livello degli altri paesi. Se questa incertezza continua, se questa tensione sui mercati continua, noi incoraggiamo o anzi scoraggiamo chi vorrebbe invece investire in Italia e non è nel nostro interesse. E secondo lei può avere una qualche influenza il fatto che c'è chi considera lo spread un po' una leggenda, come diceva giustamente prima durante l'incontro? Insomma, chi la considera una leggenda non ha capito come funziona lo spread, è una valutazione di rischio e chi considera un investimento in Italia più rischioso di quello di un altro paese alla fine non ci investe e chi è italiano deve pagare un rendimento più alto attraverso le proprie tasse o attraverso tasse di interesse più alti e dunque ci penalizza. Chi non capisce questo non credo possa fare il bene del paese. Nel 2019 scade il mandato di Draghi e secondo lei l'Italia perde qualcosa ad avere un suo connazionale in quella posizione lì a livello europeo? Insomma, Draghi ha fatto bene il suo mestiere, credo che arriverà un altro che sarà bravo. L'Italia sarà sempre membro del comitato esecutivo e del comitato direttivo. Non credo di essere attaccati alla nazionalità. Tra l'altro un italiano è diventato ora capo della vigilanza sul sistema bancario, vuol dire che ci sono tanti bravi italiani in giro per l'Europa che hanno anche un ruolo importante in Europa che dimostra che l'Italia ha un ruolo in Europa, anzi bisognerebbe aiutare questi italiani che ci rappresentano in Europa a fare bene il loro mestiere con politiche che cercano di creare armonia in Europa piuttosto che il conflitto continuo. Durante l'incontro ha ricordato la sua esperienza che si è conclusa nel 2011, che sensazioni ha di quel periodo? Fu un periodo complicato per l'Italia, anche per altri paesi, che poi altri paesi hanno superato più rapidamente di noi e forse dovremmo prendere spunto da come altri hanno risolto quei problemi. Alla fine la prevedibilità, la credibilità delle finanze pubbliche è fondamentale per tutti i paesi europei. Siccome è una responsabilità che ancora è nelle mani degli stati, e sono gli stati che devono stare molto attenti nella gestione delle finanze pubbliche e nel dare agli investitori e agli sparmiatori questa fiducia che poi si traduce in rendimenti più bassi.